Il mio figlio non è amante delle vanità, egli è un ragazzo di buon cuore, ha la vostra figlia e non pensa da... Ah, che si bisogna dire veramente che sto maestro in maglia sia proprio stata espirata in via, perché chi è duri... non vorrei maggiore che d'arico la scuola il mio progetto è fatto, perché sarete mia figlia che avevo provvito a Eno! Allora, a Eno, a Eno! E non la bolla, c'è un cavo ma un mio cavo di portatono! Sono meglio la formina da essere fornata, vuole me leggere, e mi spiace, e mi spiace, perché mi spiace, e mi spiace, che hai coraggio! Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti